Dovrò ricordarle anche questo e forse ciò sarà considerato come un attenuante. E la collaborazione che tu mi domandi dovrà limitarsi a fare da statuina cinese e dire sempre di sì? Sì, un lieve, lievissimo cenno affermativo del capo ogni qual volta ti tirerà in campo e devi poi promettermi di restare seria. Ho tanta poca voglia di ridere io. Eh, ma ti potrà venire, te lo assicuro. Accetti dunque? Devi decidere subito perché io da bel principio devo farmi trovare pentito e confesso oppure offeso e negativo. Ma quando la finirà dunque quel Luigi? Fanny non può ancora essere qui. Tu? Ebbene? Sei tu! Oh, sei tu! Sei venuta finalmente! Non ti aspettavo più! Dopo quanto mi aveva detto Alfonso non credevo che saresti venuta! Avevo dato ordine a Luigi di fare i miei bagagli! Sì, la casa è tua ed è troppo giusto che se uno di noi due è ad andarsene sia io quello! Tu puoi restare qui! No, a che titolo? No, no, io me ne vado! Ma hai fatto bene di venire! Dividiamoci pure, ma dividiamoci da amici!